Un altro incendio ha distrutto un cassonetto della spazzatura in via Grigento a Fevara. I gnoti hanno appiccato il fuoco intorno alla mezzanotte e mezza. Probabilmente si tratta di una bravata di ragazzi. L'incendio comunque ha provocato notevoli disagi agli abitanti della zona a causa del fumo tossico sprigionato dal fuoco. Annerito anche il muro di cinta dell'ex carcere di Piazza della Vittoria, le alte fiamme avrebbero anche minacciato di bruciare un filo della corrente elettrica. In zona non è la prima volta che si verificano episodi del genere. La scorsa estate, a causa dei fumi sprigionati dall'incendio, un'anziana signora di Sabile è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. Stando alle dichiarazioni di un cittadino, ieri sera i vigili del fuoco del vicino distaccamento, nonostante avvertiti, non hanno effettuato l'intervento dovuto.